Circa 5 anni fa usciva qua sul mio canale una guida di Xenoverse 2 su come raggiungere il livello 99, che all'epoca era il livello massimo, in circa 30 secondi. Oggi andiamo a vedere insieme come raggiungere il livello 120 in 30 secondi. Guardate il video fino alla fine perché vi mostrerò anche delle tecniche segrete dell'ultraistinto. Come sapete è stata aggiunta questa nuova forma per i patroller. E beh ragazzi, ci sono delle particolarità che qualcuno di voi potrebbe essersi perso. Poi in tantissimi mi avete scritto che c'erano delle grandi novità per l'ultraistinto. Quindi ne andremo a parlare in questo video insieme. Beh ragazzi, il livello massimo fino a poco fa all'interno del gioco era quello 99. Come vedete ce l'ho scritto lì in alto a destra, oltre il quale non era possibile andare. Per arrivare fino al 99 vi consiglio di recuperare la mia vecchia guida, la troverete nelle schede. È ancora valida tutt'oggi fino al livello 99. Ci sono delle informazioni molto importanti che qui non servono, quindi andate a recuperarla. Invece se siete già a livello 99, come è molto probabile che sia, dovete dirigervi qua da Wheeze. Come potete notare sono partito laggiù dalla città e poi mi sono diretto qui dove c'è la zona del Monte Paoz. Chiamiamola così. Dovete parlare direttamente con Wheeze. Ho ho ho, immaginavo che ti avrei rivisto. Sei indubbiamente in cerca di un potere ancora più grande. Sarò ben lieto di assisterti nella tua ricerca, per qualcosa di delizioso in cambio. Magari qualcosa di dolce. Ecco, sì, un parfait. Uno squisito indimenticabile dessert. Se mi prepari un parfait, spero si pronunci così, sarò più che felice di assisterti. Non farmi aspettare. Vai al negozio oggetti a cercare un parfait. Quindi ragazzi, è una cosa tendenzialmente piuttosto semplice, ma comunque qualcuno mi diceva Joseph, non capisco in che negozio devo andare per riuscire a trovarlo. Vi sarebbe bastato in realtà visitarli tutti. Ma in ogni caso vi faccio vedere fin da subito che è veramente facilissimo. Così come è stato facile sbloccare l'ultraistinto, correte a recuperare l'intero video sul mio canale. C'è appunto l'analisi completa dell'ultraistinto. Ed eccolo qua, compriamo con gli zeni e... Dov'era? Aspetta. Non riuscivo a trovarlo, ma perché in realtà credo proprio che il parfait qui sia stato tradotto con tiramisù negli oggetti. Un famoso dessert amato dai terrestri. Potrebbe piacere anche a Majin Buu. Costa un bel po' di zeni, se devo essere sincero, però ce lo possiamo permettere. E ragazzi, è veramente un grave errore di traduzione. Perché se me lo chiama parfait, vabbè, in generale ci potrebbe pure stare, però rinominameli entrambi in maniera identica. Poi sarebbe da andare a vedere in giapponese qual era il nome. In ogni caso, lì, nel negozio degli oggetti, dovete recuperare il tiramisù. Per farvela proprio veramente molto semplice. Lo andiamo a portare, chiaramente, a Wiz e vediamo un attimo cos'è che ci dirà. Mmm, avverto una fragranza alquanto inebriante. Bene, allora. Hai conteccio di cui abbiamo parlato? Consegna il parfait. È una sensazione veramente indescrivibile. Il mio palato è in festa. Ora, come promesso, esaudirò il tuo desiderio. Avrai il potere che cerchi. Ci sei? Iniziamo. Uno, due... Ha! Così, dal nulla. Valore massimo attributi aumentato. Ora puoi aumentare il tuo livello pattugliatore fino a 120. Normalmente gli attributi possono andare da 1 a 125, ma facendo visita a Wiz, i valori spazieranno da 1 fino a 200. Tra poco avrai modo di sperimentare un potere per te del tutto inedito. Se continuerai ad allenarti senza che questo potere ti dia la testa, raggiungerai vette ancora più elevate. Dentro di te vi è potere ancora inespresso. Oh cielo, credo di aver detto anche troppo. Ok, potere inespresso, di che parla? Sai cosa significa essere il pesce più grosso in un piccolo stagno? Se tutta la tua esistenza è confinata in uno spazio ristretto, è difficile capire la vera portata della tua forza. Ma la soluzione a questo problema è piuttosto semplice. Punta l'attenzione su chi è più forte di te. Appena possibile, perché non proviamo a lanciare l'attacco contemporaneamente? Vabbè, mi dà la distruzione sinfonica doppia, in realtà che era disponibile da un bot di tempo. Per raggiungere il livello 120 in 30 secondi, e questo è un richiamo alla prima guida che avevo fatto tempo fa, beh ragazzi, dovete dirigervi da Tozok. Eccolo qua. Bellissimo come sempre, Tozok. Bellissimo fino a un certo punto. In realtà, quando parlate con costui, vi dà una possibilità, ovvero di aumentare la vostra potenza. Che significa? Che in cambio di medaglie PT vi aumenterà di un livello. Occhio, non andrete dal 99 al 120 dando i 200 medaglie. Andrete dal 99 al 100. Quindi per 200 medaglie PT un solo livello. Io purtroppo spreco queste 200 medaglie PT per dimostrarvelo. Ecco qua, hai guadagnato un livello. Se io vado appunto in generale nel menu, noto che sono adesso a livello 100. Bisognerà raggiungere il livello 120. Per fare questo, ragazzi, avete varie possibilità. Dovete giocare tranquillamente all'interno del gioco, o accumulare medaglie PT che o dovevate avere da parte, oppure quando andate qua nelle missioni esperto, dovete fare una determinata missione che vi permetterà praticamente di ricevere queste medaglie in maniera un po' più veloce del solito. Praticamente la missione è questa qui, che ora tra l'altro si può cambiare anche la difficoltà e metterla facile. Ho svolto in realtà anche la missione off camera per fare un test e mi ha dato però con un bonus 24 medaglie PT. Quindi per un livello 200 medaglie PT bisogna ripetere un po' di volte. E dubito che poi il prezzo resti quello. Andiamo a verificare, ma sono dell'idea che... Sì, è probabile che Tosok, mano a mano che si sale di livello, andrà a chiedere sempre più medaglie PT. Vediamo un attimo, eh. Vediamo, voglio aumentare. No, me ne chiede sempre 200. Va bene, va bene. Almeno per salire dal 100 al 101. Adesso però voglio andare a vedere con voi, così da mostrarvi, quelle che sono le novità riguardanti l'ultraestinto e sono novità, tra virgolette, segrete. Cioè, se non ci fai caso, non riesci tanto bene a provarle. In primis, l'avevamo già vista questa, se premi L1 e triangolo, il personaggio si carica. Quindi questo vuol dire che possiamo togliere dallo slot le varie cariche. Io ho la carica suprema, potrei tranquillamente toglierla. Poi abbiamo la possibilità, quando l'avversario ci attacca, di scansarci in una certa maniera. Mettiamolo in modalità... Sì, che attacca. Vediamo un attimino. Aspetta, Broski, un momentino, eh? Vediamo adesso. Mentre noi ci stiamo scansando, possiamo fare questo colpo. Come potete notare, è un modo per fermare in primis l'avversario, ma consuma due tacche di aura ogni singola volta. Quindi occhio a sfruttarlo troppo, perché potreste rimanere assolutamente senza aura. Inoltre, vediamo le cose che nel mio primo showcase non avevo mostrato, perché questo vi dimostra che è la prima vera volta in cui utilizzavo Ultraistinto. Se premo cerchio, non ci sono i cerchietti, c'è appunto uno dei colpi caratteristici di Goku Ultraistinto qua nel gioco. Vedete? Praticamente colpisce in questo modo. E poi abbiamo anche una variazione. Questa è quella leggera, tenendo... cioè, cliccando una volta il tasto. Se tengo premuto, invece di fare la scarica di colpi dei Saiyan, fa questo colpo più pesante, che in realtà poi abbiamo anche già visto con Ultraistinto, eh, in qualche modo. Vedete? Lo carica e gli dà un colpo sicuramente più convinto. È una bella variazione rispetto al solito, quindi il personaggio viene sicuramente valorizzato. Una però delle cose più assurde in assoluto è la seguente. Guardate un po'. Se io mi trasformo normalmente in Ultraistinto mentre l'avversario è fermo, questa è l'animazione. C'è però un'animazione segreta che ora andremo a scoprire insieme. Torno normale, il mio avversario lo faccio attaccare, e guardate che succede mentre mi trasformo. Se lui mi attacca, la trasformazione cos'è che fa? Guardate che spettacolo! La trasformazione avviene mentre faccio il colpo al mio avversario. Devo però diventare almeno già sbrilluccicoso. Lo colpisce, gli fa dei danni e poi fa un'animazione differente perché si gira appunto anche con la testa. C'è proprio un'altra roba. Spaziale nonché bellissima. Colpisci mi! Ed eccolo qua, guardate che spettacolo! Il personaggio, così ragazzi il vostro patroller, farà davvero paura. E poi vedete? Guardate cos'è che fa? Si è girato e girandosi c'è appunto diciamo questa mini esplosione di energia che fa togliere tutto quel glow sul personaggio. Ovviamente il personaggio poi inoltre può anche scansare tutti i colpi, l'avevamo già visto tramite il data input. Ricordate però ovviamente che il vigore vi scenderà. Noi qua siamo nella modalità quella lì, allenamento, quindi non scende il vigore, si ricarica subito. E quindi bisogna fare attenzione poi negli scontri veri e propri. Quasi dimenticavo un altro paio di cosucce che però sono punti a sfavore per l'ultraistinto. Infatti la trasformazione richiede 5 tacche di aura e purtroppo le 5 tacche di aura che vengono utilizzate vengono poi perse. Non sono lì pronte e disponibili per fare dei colpi energetici o colpi supremi. Inoltre un'altra cosa molto a sfavore che in realtà utilizzavo con altre trasformazioni come il Super Saiyan Blue, il Super Saiyan in Evoluto e anche altre è il fatto che quando si utilizza un determinato tipo di tecniche come l'esplosione maligna il personaggio non fa il teletrasporto cosa che invece succede col Super Saiyan Blue Evoluto. E questo è un bel punto a sfavore ma ci sono altri punti a favore ed altri punti a sfavore che presto vi illustrerò in un video dedicato. Sperando che tutta questa guida vi sia stata utile mi raccomando lasciate un like iscrivetevi e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!